Non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio veramente più. Siete una banda di stupidi, siete una banda di handicappati, schifosi o maledetti. Voi non meritate questo tipo, voi non meritate la gente, voi meritate cazzotti a calci in culo, voi meritate questo, perché io mi sento preso per il culo. Io stasera mi sento preso per il culo, bene? Esco dallo stadio e ora se ne parto. Voi mi dovete dire come si fa a perdere una partita del genere. La Lazio, onore a loro, onore a loro, e ripeto, onore a loro, onore a loro, onore a loro, onore a loro, onore a loro. Hai fatto 50 tiri, 0 gol. Hai perso 4 a 0. 4 a 0, lo sconto diretto praticamente. Ma voi siete di fuori. Italiano, ti devi di mente stasera. Non me ne frega nulla. Avete rotto i... Le folle. Avete rotto le palle. Avete rotto le palle. Ma mi dici come si fa ancora di fare in questa società di indenni schifosi. Fate schifo. Fate schifo. Vergognatevi. Saponara entra, non tocca nemmeno il pallone. Non la stoppa nemmeno. Fate verg... No, no. Io un pazzisco. Mi arrestano stasera. Finisce qui, 0-4. Finita. Io sono già uscito perché non la posso, non ce la faccio più. No, non ce la faccio più. Io non ce la posso fare. Complimenti alla Lazio, lo ripeto, ma io mi sono rotto le palle. Vergognatevi. Vergognatevi tutti dal primo all'ultimo. Io ora pretendo rispetto. Pretendo che qualcuno si levi dalle palle. Si dimetta. Perché siamo tredicesimi. Siamo a meno undici dalla Lazio. Siamo a meno undici dalla Lazio. No, 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 no. No, no, no. La disfatta Fiorentina. Accidental. Esaltavate tutti Mandragona. Ha fatto una partida di Minoporci. Esaltavate tutti Biraghi. Un imbecille. Esaltavate tutti quell'altro. Saponara, una partida di Idiota. Italiano, ma hai rotto le palle fuori te. Gobbisso. Perché sei gobbisso. Non dico più come sei un gobbisso. Hai rotto i Maroni. Hai rotto le palle. Pure te, giù, barone. Te sei buono solo per far mandare a mangiare la gente. Società allo sbando. Squadra allo sbando. Allenatore allo sbando. E fa cambi da idiota. Non mi venite a parlare dell'arbitraggio e del primo tempo. Perché giuro faccio casa micciola e picchio 1 a 1 dal primo all'ultimo. Perché io perdere così non lo posso vedere. Posso perdere 1 a 0. 2 a 0. Ok. Lo accetto. Ma non 4 a 0. Perché è uno schifo. Avete rotto i cosiddetti coglioni. Ovvio. Avete rotto. Ma li avete rotti. Ma li avete rotti. La Lazio è una squadra a differenza nostra. Io non ce la faccio più. No. Io non ce la posso più fare. Io non ce la posso più fare. Io la piglio questa macchina e la piglio a calcini nel culo. Non ce la posso più fare. Io mi dite come faccio ad andare avanti così. Ma mi dite come faccio ad andare avanti così con questa squadra. Mi dite come faccio ogni domenica a incazzarmi. Mi dite come faccio a farvi capire che era una vittoria inutile con gli hearts. Vergogna. Vi dovesse. E' vergogna. Mi avrò dal primo all'ultimo. Schifosi luridi. Schifosi luridi. Schifosi luridi. Vergognatevi. Siete vergognosi. Non meritate nulla. Io ho detto tutto. L'analisi da partita ve l'ho fatta. Anzi ha vinto meravigliamente. Perché è più squadra. Ma io così. A fine anno non ci arrivo. Ora pretendo rispetto. Ciao ragazzi.